È indirizzata all'assessore regionale trasporti Stefano Baccelli la lettera a firma di Maurizio Darè, portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima. Il motivo sono i lavori sulla linea aretina lenta ad agosto e le possibili ripercussioni sui treni regionali. Quale portavoce del comitato, scrive Darè, sono a chiederle una particolare attenzione. Dal 5 al 19 agosto a Rignano si entrerà nel culmine dell'intervento di RFI per il rifacimento del ponte ferroviario con l'interruzione della linea e lo stop al passaggio dei treni. La chiusura avrà inevitabili impatti per la circolazione ferroviaria in quei giorni e non è chiaro come saranno i tempi di percorrenza in direzione Firenze di bus, navette e treni. In particolare, conclude Darè, non si sa quale sarà l'attenzione da parte di RFI per i treni regionali veloci per la percorrenza obbligata sulla direttissima e soprattutto sulla puntualità degli stessi treni, sempre a rischio inchini.